Io devo fare un video proprio sulla mentalità dei vittoriani, ci siamo arrivati in tempo. Va beh, riprendi, attacca, 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 dai. Sarò abbastanza conciso, capo con una mezzoglietta, meno di una mezz'oretta, conciso, non c'è conciso. No, no, non c'è conciso, non c'è conciso, ecco qua, 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 sta qui, sta qui, sta qui, un altro di cavallo, adesso già il sole è meno forte, prima era più... Insomma, sappiamo a chi dare voti, a chi dare voti? Eh, a chi ne diamo il prossimo voto, a non sbagli mai. Siamo riprendendo, bravo. Sì, sì, l'avevo messo il tempo. Ciao a tutti, siamo pochissimi, molto selezionati, ma va bene così. Era meglio se eravamo almeno il numero solido di 30-40, ma evidentemente la gente oggi ce l'aveva da fare. Eh sì. Eh, evidentemente sì, perché domani ci sono le lezioni, perché è una bella giornata dopo tanto tempo di clima instabile, e finalmente, ecco, una bella giornata, la gente di sabato prende e se ne va. Allora, io molto ineritatamente ho scritto per, diciamo, il mio diletto personale principalmente, e poi anche ovviamente perché ognuno, io penso che ognuno che ha qualche cosa da dire è all'obbligo di dirlo, soprattutto se questa cosa che deve dire può implicare la, diciamo, sopravvivenza o il quieto vivere o la permanenza, diciamo, nella situazione di sostenibilità, della vita, della interrelazione con gli altri a livello familiari, a livello personale, a livello sociale, e quindi ha l'obbligo di mantenere, diciamo, informata la gente sulle cose che lui può, diciamo, contribuire a rapportare a conoscenza della gente. Nel mio piccolo, nel corso degli anni, ho, diciamo, acquisito una serie di informazioni e di esperienze che metabolizzate col tempo e poi ampiamente, diciamo, verificate di persona e anche poi attraverso lo studio di esperienze di altri, come sempre si fa, oggi, diciamo, sono portatore sano di un virus che mi ha contagiato come tutti all'interno di una società e questo virus si chiama denaro, moneta, banconota, c'ha tantissimi nomi, più o meno è come gli appellativi sessuali, c'ha talmente, diciamo, boicottato il termine, il concetto in sé per cui il cervello ha bisogno di tantissimi termini per, in qualche modo, giustificarli volta per volta e c'ha circa 400 modalità di nominalizzazione, molti più di quelle sessuali, una volta il signor Benigni qualche tempo fa fece un elenco in televisione e ci fece un programma, una puntata di un programma televisivo sul racconto dei nomi che sono epitetici degli organi sessuali. Noi ci troviamo quindi in un contesto che è molto scabroso, tant'è che ha bisogno di tanti nomi per poter essere descritto e la descrizione effettivamente va a intervenire, a interagire con tantissimi aspetti della vita sociale, intellettuale, culturale, morale e economica ovviamente e quindi anche ereditaria eccetera. Questo perché? Perché nel corso dei secoli e dei millenni c'è sempre stata una lotta al possesso dei beni e quindi principalmente la lotta fra le culture, fra le etnie, fra le religioni sono sempre state condotte per cercare di rubare qualcosa che apparteneva a qualcun altro. E la prima cosa che si fa da sempre è di rubare il lavoro dell'altro. Non a caso uno poi schiavizza le persone. Ma la schiavitù nel corso dei millenni ci ha avuto tantissime diverse modificazioni e forme. La forma attuale è quella di costringere, come diceva appunto prima l'amico, la decima vittima al suicidio. Non è un caso, è intenzionale, è una metodica, è matematicamente calcolato. Infatti oggi vediamo che c'è di 5 milioni circa di partite IVA che avevamo 10 anni fa, oggi ne abbiamo 4 milioni. E cioè in 10 anni abbiamo ammazzato la decima vittima un milione di volte. Non era questo che mi ero preparato ma mi è uscito fuori così. Allora, però avevo individuato lo stesso il focus. E cioè quello che io sto dicendo adesso e che molto impreparatamente sto dicendo adesso è che incredibilmente però si va a ricollegare a quello che avevo previsto di dire. E cioè che c'è questo libro che io ho scritto è un pretesto, è un'istigazione e una provocazione. Cioè è qualcosa che serve o servirebbe alla gente che se bontà loro vorrà partecipare nelle prossime occasioni che presenteremo il libro avrà modo di verificare. Cioè per cercare di portare avanti un dialogo che in moltissime persone non è per nulla chiaro apposta a proposito di quei sostantivi che identificano la moneta. Non a caso la moneta si chiama svanzica in tedesco, si chiama pecunia in latino, capita, scilo che abbiamo detto prima, tallero, dollaro che deriva da tallero. Il dollaro che deriva da tallero. Di 200.000 nomi, abbiamo detto circa 400. Perché? Perché servono in ogni situazione a definire un particolare sfaccettatura, un particolare taglio del concetto della moneta. E quindi potremmo stare... Qualcuno mi ha detto, tu hai scritto la storia della moneta? No, non ci penso minimamente. Perché la raccolta di tutte le enciclopedie mondiali su qualunque campo vogliamo andarla a identificare, è comunque una storia della moneta. Perché da sempre tutta l'opera dell'uomo viene quantificata in moneta. Che sia tabacco, che sia le noccioline, che siano le conchigliette... Conchigliette... Che siano gli armenti... Comunque sia... Peguglia... C'è, abbiamo già detto. E quindi, in qualunque modo, comunque, diciamo, raccolgono tutta la manifestazione dell'animo umano e della capacità e dell'abilità umana. E questo è una bellissima cosa. Il problema è che... Allora, bisogna fare un attimo un passo indietro. La nostra civiltà attuale è nata più o meno, dicono, nell'ambito della Mesopotamia, dell'Ase Minore o dell'Indo, non si sa bene esattamente, fra i 5.000 e i 7.000 anni avanti Cristo. Perché non è vero. Perché è inconfondabilmente provato che tutto nasce a seguito della piccola glaciazione di World, e cioè fra il 10.000 e il 9.000 avanti Cristo. Quindi, parliamo di 2-3-4.000 anni prima. Che abbiamo fatto in quei 2-3-4.000 anni prima? Abbiamo vissuto nella valle dell'Eden. Abbiamo vissuto nel paradiso. Quello che diceva la signora prima. Cioè, non è esattamente così, ma nei primi millenni, l'uomo, siccome era veramente un peso demografico bassissimo sul territorio, poteva tranquillamente fare la raccolta in territori abbastanza circoscritti perché, fra l'altro, vivevano in un'epoca, dopo la piccola glaciazione di Worms, che andava verso il caldo e quindi aumentava sempre più la produttività di qualunque specie animale o arborea. e quindi aveva questa capacità di sostentamento della massa umana che c'era, della piccola massa umana che c'era l'Eden. Quindi, per almeno 4.000 anni, l'uomo ha potuto vivere transumando in piccoli ambiti territoriali, più o meno rimanendo stanziale, e avendo la possibilità di sostentarsi e di crescere anche come numero e quindi di crearsi quelle competenze, quelle conoscenze, eccetera, che poi attorno al 5.000 a.C. hanno potuto dare modo allo sviluppo delle tecnologie agricole e dell'allevamento. E da lì poi però arriva il problema, perché mentre prima uno raccoglieva e non capitalizzava un cazzo, dopo hanno cominciato a capitalizzare. Perché? Perché mentre tutti prima avevano una struttura orizzontale, tutti erano uguali, tutti raccoglievano nello stesso modo e c'era bontà di cibo e esuberanza di cibo e abbondanza di cibo quanto uno ne voleva. Dopo non c'è stato più possibile. E quindi chi aveva un terreno e lo coltivava o aveva un regge di pecore e lo allevava, non lo voleva dividere con l'altro che non aveva fatto nulla o che aveva fatto altro, che gli aveva detto male. L'accumulo comincia in quel momento. Arriva nel momento in cui entra la tecnologia, entra l'agricoltura, la scienza, l'allevamento. Cioè queste prime grezze, tecnologie di produzione di massa, di produzione in una catena di produzione in una fidiera, incomincia a creare la specializzazione per quello che riguarda la conoscenza tecnica da parte del singolo individuo e quindi la frammentazione del sapere. E quindi il problema del riuscire a creare questa coalizione tra tanti interessi diversi e anche la invidia dell'uno con l'altro per avere maggiore rispetto, per avere maggiore funzione, per avere maggiore riconoscimento. Questo crea l'ambito. In quest'ambito viene poi presa necessaria una misurazione del valore dell'altro. No? Perché io dico che sono bravo e tu dici che sei più bravo, bisogna vedere poi chi è più bravo tra i due e quindi a livello diciamo generalistico, no? Perché io dico una cosa, tu dici l'altra ma poi esistono gli astanti e gli astanti devono sapere se tu vali di più di me. A quel punto incominciano appunto le specializzazioni, le prime due specializzazioni ma subito dopo c'è una terza, sono il sacerdozio e la tecnologia costruttiva. E quindi il pontefice, quello che sa fare i ponti, è lo sciamano. Ecco, ma subito dopo viene anche la puttana insomma, non è che, perché? Perché è la cattura diciamo degli tre elementi principali dell'animo umano, delle tre esigenze primordiali dell'animo umano. Insomma, tutto questo nel libro ovviamente c'è appena accennato, ma questo per dire, a voi che siete qui e a quelli che spero maggiormente numerosi vedranno il video, per dire che insomma tutto nasce da un problema di diciamo psicologico interiore ed anche diciamo di psicologia delle masse, cioè esteriore. E quindi diciamo che tutto questo insieme di norme che poi sarà quello che a livello religioso è il tabù o l'eresia in tempi più moderni, che creano il reietto, il personaggio che va escluso, a te sì, a lui no, tutte queste cose che incominciano a delimitare gli ambiti di competenza di ciascuno e le competenze viceversa di ciascuno. Il che in sé è un bene, non è un male, ma è un male le modalità, io lo dico sempre con Giorgio proprio su questo, è nelle modalità che si esprime la personalità, non nel raggiungimento del fine. Il raggiungimento del fine è una misura che ci diamo noi volta per volta per raggiungere un determinato traguardo, che può essere definitivo o semplicemente intermedio. Però quello che importa è che dà la valenza e lo spessore della nostra personalità, è il modo in cui lo raggiungiamo. E quindi quello che è stato l'errore della civiltà umana, a partire da 4.000-3.500 avanti Cristo, siamo usciti, pian piano arriviamo gradualmente ai tempi nostri, è questo il concetto, cioè noi dobbiamo ritornare non all'epoca della Valle dell'Ede, ma cercare di trovare un modulo di interrelazione sia fra individui che fra gruppi etnici, gruppi religiosi, gruppi culturali eccetera, che sia in qualche modo più virtuoso di quello che è stato finora. Cioè quando uno cerca di imporre, come fanno certi gruppi intellettuali, il fatto oggi, tanto più attuale, che c'è una legge dello Stato che impedisce di pensare che il negazionismo sia un atto assolutamente illogico, oltre che antistorico, è una cosa che dovrebbe essere ripudiato da tutti, e invece tutte queste cose qui vengono oramai passivamente accettate. Quindi a partire poi dal 3.500 avanti Cristo, incominciano a circolare monete effettivamente stilizzate secondo i concetti che noi attualmente pure conosciamo. e quindi a 3.500 avanti Cristo, in particolare per esempio a Murabi, il codice di Murabi dice che gli agricoltori dell'epoca che cosa facevano? Portavano all'ammasso nei magazzini del re il grano, dove a questa azione corrispondeva il rilascio di ricevute nelle tavolette in una forma di assegno era per loro, no? Certo, usavano un po' troppo ma è certo. e quindi avevano queste tavolette codificate che permetteva loro nel momento in cui avevano bisogno di scambiare o di usare questo grano di andarlo a prelevare. Ovviamente tutto questo non era gratis perché il re pretendeva la sua bella agente, però questo per dire che da lì nasce il circuito della moneta, perché queste tavolette poi si potevano anche negoziare, scambiare eccetera. Nel corso dei secoli poi per arrivare sempre più vicino a noi, come abbiamo detto prima, le monete hanno preso le forme più strane, dalla conchiglia da cui si ricavava la porpora per pingere la lana dei tessuti, al tabacco in Sud America, in Centro America o il tè in Asia, le pecore come abbiamo detto prima per pecunia, capita per il capitale eccetera e assumendo volta per volta forme diversissime ma comunque in qualche modo correlabili come concetto a mezzo di scambio e di fiducia perché va ricordato che la moneta ha per il sistema attuale tre valenze principali, cioè la fiducia di chi la emette, l'idea che qualcuno a cui io la do, poi da me io altrettanto la riceverò e viceversa e soprattutto che è uno strumento di misurazione. Noi di Alba Mederani abbiamo aggiunto un'altra valenza molto più importante che è che era già stata in maniera molto più larvale concepita da Jacinto Auriti e che noi abbiamo ampliato un po' come senso, Jacinto Auriti diceva che la banconota è l'unità di misura e la misura del valore, mentre noi diciamo che invece la banconota o la moneta in generale è l'unità di misura del valore del lavoro dell'altro, non del nostro lavoro ma del lavoro dell'altro, proprio per enfatizzare questo discorso della fiducia e quindi la cosa da dire di importante che volevo, diciamo fatta questa premessa, poi tutto il resto e molto di più lo trovate ovviamente sul libro, ma... Buonasera dottor Saccà, oh buonasera professore, si metta qua che qui c'è l'ombra, ecco si, come vuole lei, bene, chi non lo conosce è il professor Saccà che ha presentato l'altra Saccà che è la mia, oggi è un libro molto bello, buonasera, uno dei suoi 50 libri all'incitore possiamo anche l'ombra, viagglie che si mette qua Buonasera, voi lo sentite dal cappello Teradio di Dio Spienza Quindi per portare avanti l'insieme dei concetti che strutturano l'insieme della visione che ciascuno di noi ha e che è giuridicamente della banconota o della moneta, che non sono la stessa cosa, è il fatto che nessuno ha definito una serie di punti fermi, e cioè che la banconota nasce dal cardine della fiducia, perché solo a Murabi poteva fare una cosa del genere, perché era il re dei re e aveva questa nomea di flessibilità, correttezza, rigidezza eccetera eccetera, per cui garantiva che effettivamente quel grano che tu ci avevi messo lì nei magazzini del re poi lo andavi a riprendere, pagando ovviamente l'agio al re. Quindi il discorso è che ci deve essere, come su tutte le monete, messa la faccia, no? Perché mettono la faccia dell'imperatore, del re e quant'altro? Perché serve la garanzia di una persona affidabile, affidabile è riconosciuta da tutti affidabile. Infatti sull'euro non c'è messo la faccia. Aspetta che ci arriviamo e non predire tutto, e io sto facendo tutta questa solfa per arrivare lì, abbi pazienza, non mi bruciare i termini, per favore. Allora, la cosa importante da dire quindi è che c'è la garanzia, ci vuole la firma. Infatti in tutte le monete sia di conio che scritte c'è la fascia, oltre che la garanzia del conio, del tasso di valore all'interno della banconota di metallo, eccetera, eccetera, che garantiscono che quella moneta sia davvero portatrice di quel valore. In epoca poi più recente, attorno al 1200, ma le cambiali esistevano già in India, eccetera, eccetera, ma parliamo di tempo moderno a livello occidentale. Attorno al 1200 nasce la nota di cambio, che è precedente alla nota di banco, di un secolo circa. Insomma, la nota di cambio è una lettera al portatore che uno andava in viaggio in Inghilterra a comprare la lana inglese, oppure andava, che ne so, in Libano a comprare le spezie e si portava questa nota di cambio, andava lì, c'era il referente locale del banchiere, dell'usuraio, chiamiamolo come vogliamo, a cui io facevo riferimento a casa mia e lì lui mi dava l'equivalente di metallo prezioso, l'argento, oro, quello che era, in funzione di quello che stava scritto sulla nota di cambio. Quindi c'era un bel sigillo di garanzia, c'era la firma e anche il codice segreto che si scambiavano questi per far riconoscere che erano effettivamente loro, eccetera, e tutta una serie di informazioni sul portatore e quant'altro, no? E che cos'è questa, se non la cambiale? La cambiale è il titolo al portatore ufficiale, legalizzato, come poi vedremo, dalla Convenzione di Ginevra del 1930 che è stata sottoscritta da 41 stati all'epoca e è stata poi ratificata dai 41 parlamenti di quei stati tra cui c'era il Brasile, l'India, l'Ucraina, eccetera, una serie di stati molto importanti. Guarda caso però gli Stati Uniti non ci sono, tanto per cambiare. Gli Stati Uniti raramente ratificano i tre parti internazionali, come quello di Oslo, eccetera. Allora, quindi in quel contesto lì, questa Convenzione internazionale di Ginevra del 1930 viene riconfermata quella che è la tradizione di 800 anni di storia della cambiale e cioè che la cambiale, per essere definita tale, deve portare tutti quegli elementi, quegli dieci elementi specifici che contraddistinguono il titolo al portatore. E quindi da quel momento lì, a partire dalla nota di cambio e poi gradualmente con tutti i suoi sviluppi nasce la nota di banco e poi la banconota. Che altro non è che l'erede standardizzato della nota di cambio. Perché? Perché quella viene fatta in serie. La nota di banco è fatta in serie perché viene integra dentro di sé, nella facciata o nel retro della carta pecora o quello che è il materiale su cui è scritto, praticamente integra in sé tutti i dieci elementi che contraddistinguono la nota di banco, standardizzata però. Quindi poi viene recepito nel corso dei secoli questo concetto per cui poi la banconota prende piede in secoli successivi in maniera esplosiva, proprio pesantemente esplosiva e quindi diventa diffusa perché esplode l'economia dei primi paesi industriali o addirittura già anche prima e gradualmente diventa quindi uno standard e non più una nota di cambio che va compilata volta per volta. E quindi assume dentro di sé la valenza del titolo apportatore, quello che era originariamente quello della nota di cambio. Oggi, per fare un salto di due secoli e passa, e tre anche, noi in tutta l'epoca moderna abbiamo avuto le banconote. E cosa ci avevano sui banconote? Ricordiamocelo bene. Ci avevano la faccia di un personaggio importante, diciamo, che rammentava le grandi figure storiche delle nazioni a cui facevano riferimento, ci avevano soprattutto il numero di matricola, il numero di serie e soprattutto c'era la firma del governatore e del cassiere. E che cosa è il governatore del cassiere? I lingotti d'oro. Ricordiamoci una cosa, a parte il fatto che fino al 1971 c'era la convertibilità in oro e poi in Italia c'è stato fino a 31 gennaio del 2002 addirittura, perché fino al 31 gennaio del 2002 sulle banconote delle lire c'era scritto pagabile al portatore. Perché? Perché le banconote fino al 31 gennaio del 2002 erano titoli al portatore. Perché? Perché assommavano in sé i valori del titolo giuridico e cioè c'era un debitore e c'era un portatore. E allora il portatore corrispondeva al traente, mentre il trattario era il cassiere e il banchiere. Erano loro che pagavano, erano loro che dicevano io devo al portatore la somma di 100.000 lire. Non so se è chiaro il concetto. Pagavano in solido. In solido? In solido perché il portatore del foglio di carta era il creditore. Certo, era quello a cui si fa cambiare. Il pagamento avveniva solo ed esclusivamente in solido perché quello è il pagamento. Certo, certo. In denaro o in moneta d'argento o in moneta d'oro o in gliotti d'oro o qualche altro. O valore concreto. O valore demaniale. O valore concreto. O valore demaniale. O valore demaniale è importantissimo. Ma questa prassi si è instaurata nel corso dei secoli. Allora però quello che rimaneva fino al 31 gennaio del 2002 è stato proprio questo. Cioè era comunque un titolo al portatore. Un titolo al portatore era una cambiale firmata dal cassiere e dal governatore della Banca d'Italia. Come in tutti gli altri paesi del mondo. Mentre, che cosa è successo? A partire dal primo febbraio del 2002 è subentrata la banconota euro. la quale banconota, la tiro fuori perché vale la pena di evidenziarlo. Questa è...